Sono passati 43 anni ormai da quella tragica sera in cui il 19 Italia IH870 si è inabissato nel mare, nel Martirreno, vicino all'isola di Ustica. 43 anni di bugie, di omissioni, di ricerche della verità mai concluse, di depistaggi e di un'incertezza che ha generato una spasmodica attesa per una verità che chissà se riusciremo mai a trovare. Noi del canale Dentro la Storia abbiamo voluto parlarne con una persona che sta seguendo da tempo le vicende connesse al disastro, alla strage di Ustica per conto dei familiari delle vittime. È l'avvocato Daniele Osnato del foro di Caltanissetta. Con lui abbiamo deciso di dialogare per cercare di far luce su certi aspetti connessi alla strage e a quello che ne è seguito, ai processi che non hanno riguardato la strage, ma hanno riguardato le bugie, le omissioni, i presunti dei pistacci, i detti e non detti, quel muro di gomma contro cui lo stesso avvocato e tanti come lui si sono scontrati, un muro che non pare presentare crepe, ma che speriamo un giorno di poter abbattere. Buongiorno e benvenuto a Daniele Osnato. Ritorniamo a parlare della strage di Ustica. Dopo un po' di tempo lo facciamo con l'avvocato delle famiglie delle vittime. Ringraziamo anche Stragi 80 per aver reso possibile questo incontro, questa intervista. Ciao Daniele, come stai? Benissimo, benissimo. Voi? Bene, bene, non c'è male. Ciao Federico. Ciao Giovanni, anch'io sto piuttosto bene. Incominciamo con la prima domanda che è abbastanza semplice ma piuttosto complessa. Nella complessità del caso di Ustica, soprattutto online, soprattutto su YouTube, si trovano molti video che parlano della soluzione dei quattro generali dell'aeronautica come prova maestra, prova cardine del fatto che sia stata una bomba piuttosto che un missile. E domando a Daniele se questa è un'interpretazione corretta o un'interpretazione errata della sentenza penale di assoluzione dei quattro generali dell'aeronautica italiana. Allora, forse però questa domanda mi porterà a dare una risposta un po' tecnica e forse noiosa. Non importa, va benissimo. Stiamo cercando di fare un po' di chiarezza nella cosa, anche se non è chiaramente sempre possibile, ma per quanto possibile ci proviamo. Quindi non ci sono problemi. Devo fare l'avvocato per forza. Allora, in realtà il dato fermo intanto è che non è mai stato fatto un processo sulla strage di Ustica. Quello che è stato fatto è un processo che nasce dalle ceneri dell'indagine di Ustica. L'istruttoria tenuta da un giudice istruttoria del Rosario Priore, ai tempi si andava col vecchio rito, perché poi cambiò il processo penale, è cambiato prima c'era la figura del giudice istruttorio, si è conclusa con l'assoluzione di circa 67 soggetti, per la maggior parte appartenenti alle forze armate, per intervenuta prescrizione, che erano stati imputati, indagati e perseguiti per reati, come dire, minori, piuttosto che falsa testimonianza, occultamento di documenti o quant'altro. Erano già passati 30 anni e il reato si era prescritto. Gli autori materiali della strage non sono stati mai trovati e questo ha portato il giudice Rosario Priore a dover archiviare il caso, perché ignoti erano gli autori del reato. Quindi residuava un'ipotesi di reato, che è l'articolo 289 del codice penale, che è tradotto in termini semplici, sarebbe attentato agli organi costituzionali, attentato allo Stato. L'articolo 289 è diviso in due commi, il primo comma parla di impedimento e il secondo comma parla di turbamento. Dice l'articolo 289, o meglio diceva l'articolo 289, ai tempi che chi impedisce l'esercizio delle attribuzioni dello Stato è perseguibile con una sanzione molto alta, penale e molto alta. Essendo molto alta, quando il giudice Priore terminò quell'indagine ancora non si era prescritto. Dice poi il comma 2, la pena è minore, se invece che è impedimento tu mi fai un turbamento. Il giudice istruttore ritenne che nel comportamento di, all'inizio, sette generali, dopodiché tre uscirono subito fuori perché in realtà per loro l'imputazione era di semplice turbamento e quindi era già prescritto in sede di apertura del dibattimento, l'ipotesi di Rosario Priore era quella che questi generali, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Italiana, vice capo e poi altri due comandanti di alto livello, erano stati responsabili di avere acquisito delle informazioni molto rilevanti sull'incidente della strage di Ustica e non le avevano trasmesse agli organi politici, la ragione per cui qualificò questo comportamento come primo comma dell'articolo 289 e chiese il rinvio a giudizio. Quindi si apre nel 2000 un processo penale dove in realtà non si parlava della strage, ma si parlava del contesto intorno alla strage. Noi parenti abbiamo chiesto di poterci costituire parte civile perché non che avessimo interesse alla condanna di quattro generali in pensione che semmai avevano fatto un depistaggio. Per quanto eticamente criticabile o censurabile, quel depistaggio non era direttamente correlato alla morte, nessuno ha mai imputato o processato quei quattro generali per la strage, per l'omicidio di 81 persone. Però in realtà avevamo interesse a utilizzare la cross-examination di quei 400 testimoni che avremmo sentito nel corso di quel dibattimento e di quei quasi 100 periti che volevamo sentire e che si erano occupati della vicenda per capire in realtà e avere risposto a un'altra domanda. Cioè non se i generali avevano impedito le attribuzioni dello Stato o del potere politico, ma volevamo sapere chi aveva ucciso 81 persone e perché quelle 81 persone erano morte. In realtà quindi la domanda che era posta a quel tribunale penale che poi era la Corte d'Assise fu posta in questi termini. È possibile che questi quattro generali dell'Aeronautica Militare abbiano conosciuto, abbiano saputo della presenza di voli statunitensi la sera del 27 giugno del 1980 e non l'abbiano riferita ai livelli politici e se lo sapevano e non lo hanno fatto come reato quindi omissivo questo ha condizionato l'esercizio delle attribuzioni politiche ad altissimo livello nei termini di possibile richiesta di intervento di collaborazione internazionale giudiziaria da parte degli allora nostri politici che erano al governo. In sintesi, la Corte d'Assise di primo grado ritenne che vi fosse stata questa informazione e che questa informazione fosse arrivata ai quattro generali e li ritenne colpevoli. Li condannò però non di impedimento ma del secondo comma dell'articolo 289 e quindi di semplice turbamento non per essere tedioso però in realtà questo è un passaggio molto importante e che fu molto significativo per noi però in realtà non fu colto dall'opinione pubblica. La Corte d'Assise che tenne l'intero dibattimento ascoltando direttamente 600 persone nella cross-esamination incrociata di pubblici ministeri, avvocati, avvocati difensori e parti civili e quindi fece un approfondimento dibattimentale estremamente pesante, estremamente approfondito, ritenne che in verità il governo di allora e in generale i poteri politici avrebbero di propria iniziativa potuto chiedere e potuto fare e non lo fecero nascondendosi come dire dietro il dito della mancata informativa dettagliata e pertinente da parte dei generali dell'Aronautica Militare. Quindi in realtà furono ritenuti colpevoli di turbamento, il reato di turbamento era nel frattempo prescritto perché era meno grave e quindi furono assolti per intervenuta prescrizione. Nell'assolvere i generali fecero una come la posso definire latente condanna del sistema politico di allora condannarono l'intero governo cioè assegnarono e puntarono il dito su una responsabilità politica gravissima di non essersi mossi quantomeno di non averlo fatto in maniera esplicita e di non avere chiesto ai paesi vicini quantomeno appartenenti alla Nato se loro avevano qualche coinvolgimento in relazione al capo di imputazione che prevedeva ipotizzava la presenza di voli statunitensi nel basso martirreno la sera del 27 giugno del 1980 ma anche nei confronti di altri paesi vi ricordo per esempio che la Francia nel 1980 faceva parte della Nato politica ma non faceva parte della Nato militare in termini poveri non fare parte della Nato militare voleva dire fare le proprie esercitazioni le proprie attività esercitative in piena autonomia senza rilasciare i cosiddetti NOTAM i NOTAM sono per chi non lo sapesse delle informative che vengono date al sistema di controllo radar anche dei voli civili ma anche militari tenete presente che siamo nel 1980 che c'è la guerra fredda che noi abbiamo la Jugoslavia di Tito a 40 miglia la ESTA abbiamo Gheddafi che minaccia di lanciarci i missi siamo circondati e l'Italia è la porta aerei della Nato al centro del Mediterraneo ed è strutturata come nell'ambito del sistema NEIJ come come dirvelo come una sorta di antico internet di informativa militare noi funzionavamo come trincea della Nato e e trasmettevamo ogni informazione che potesse riguardare qualsiasi tipo di movimento che potevamo percepire in cielo in mare piuttosto che in terra in un sistema che ai tempi veniva definito cross-tel che era una sorta di rimbalzo di informativa che altro non è che il nonno anzi il bisnonno di internet ecco l'Italia era questa era la trincea della Nato era la porta aerei nel Mediterraneo e tutto questo era assolutamente rilevante per ciò che riguarda le funzioni politiche perché qualsiasi politico che non avesse avuto il potere avrebbe non soltanto potuto ma soprattutto dovuto chiedere e la circostanza che non fu chiesto e non fu fatto certamente non si poteva giustificare col fatto che quattro generali non avessero informato il processo andò in corte d'appello la corte d'assista d'appello impedì una cross-esamination dei testimoni impedì la rinnovazione del dibattimento assegnò pochissimi minuti alle parti civili per le discussioni e in pochissime udienze liquidò la questione con una sentenza che poi in qualche maniera è quella che viene utilizzata da alcuni siti internet o da alcuni soggetti con degli interessi che non so meglio definire come la sentenza che avrebbe dichiarato che il 19 dell'Italia nella sera del 27 giugno del 1980 è esploso per una bomba quindi un ordigno esplodente collocato all'interno della toilette ora oddio io questa sentenza l'ho letta è una sentenza molto breve devo dirvi sono poco più di 100 pagine considerate che Ustica il contesto processuale è composto da oltre 2 milioni di atti quando parlo di atti non parlo di pagine un atto potrebbe anche essere una perizia alto un metro e mezzo 2 milioni di atti comporta che metà di Re Bibbia è infatti dedicata alla collocazione della cancelleria dell'archivio processuale della strage di Ustica metà della struttura di Re Bibbia Re Bibbia voi sapete che è il carcere più grande d'Italia sentenza da 100 pagine che in qualche maniera dalla dichiarazione del dispositivo al deposito della motivazione si prese parecchio tempo e che sembra più impostata a rispondere alle reazioni giornalistiche che nel frattempo dopo il dispositivo di assoluzione perché furono assolti con formula piena in questo secondo caso i generali la stampa qualche stampa ebbe un po' da ridire dice ma come sono stati sentiti 500 testimoni 100 periti che hanno detto delle cose molto pertinenti tu non ascolti più nessuno non leggi nessun atto e assolvi la sentenza della corte d'assiste d'appello è protesa più che altro a rintuzzare e replicare più che altro a certi articoli giornalistici quindi è un po' decontestualizzata rispetto a quello che in realtà era all'interno del dibattimento ma cosa dice questa sentenza della corte d'appello penale di Roma dice intanto per me non c'è un'omessa informativa perché in realtà io questi documenti e queste informazioni che qualcuno presume e che la corte di primo grado ha presunto che vi fossero arrivati in realtà io non le ho viste non ci sono gli atti e quindi se io non ho la prova provata al di là di ogni ragionevole dubbio del fatto che voi abbiate innanzitutto ricevuto queste informazioni anche se questo era previsto come dire nella catena di informativa prevista dalle routine dei militari ma io non ho prova e quindi non avendo la prova di questo io non posso dire se voi avevate acquisito questa documentazione e queste informazioni quindi non vi posso condannare per omessa informativa dei poteri politici a cui tra l'altro voi sareste stati tenuti perché non ho la dimostrazione al di là di ogni ragione per dubbio questa motivazione eppure io da avvocato non tendo mai a fare una polemica in merito alle sentenze con cui ho a che fare in realtà una contraddizione logica irrimediabile in sé quei generali erano processati per non per avere depistato per avere fatto sperire documenti per avere nascosto delle informazioni ed è un controsenso dire che se tu hai nascosto tanto bene allora io ti devo assolvere cioè è una sorta di come dire quasi suona un po' da beffardo dire sei stato talmente bravo che non ti posso condannare è un po' come dire a un assassino dicendo sì però l'arma del delitto l'hai nascosta talmente bene che a questo punto io non ho prova del fatto che tu abbia usato proprio quell'arma e su questo è andata così per ciò che riguarda il fatto vi ho detto vi ho detto all'inizio questo è il passaggio un po' equilibristico che qualcuno poi utilizza per in qualche maniera cambiare cambiare le conclusioni anche dei giudizi che poi in fondo furono positivi nei confronti del dei quattro generali processati la corte d'appello d'assise non dà la colpa della mancanza di dimostrazione che vi fossero aerei militari statunitensi in volo la sera del 27 giugno del 1980 nelle immediate vicinanze del 19 esplose in volo non dà la colpa ai generali ma dà la colpa alla scienza nella parte motiva di questa sentenza i giudici di appello dicono non è colpa nostra se i periti non sono stati in grado di capire con precisione quali fossero i voli non autorizzati e sospetti che potessero avere avuto un coinvolgimento in quel 19 non è colpa nostra se i periti non sono stati in grado di darci la certezza e l'assoluta e matematica che sia stato un missile piuttosto che una bomba piuttosto che un cedimento strutturale piuttosto che un UFO piuttosto che un'altra causa la corte d'appello sostenne che non era suo dovere e dare una risposta in questo senso perché la domanda non era dimmi cosa è successo la domanda era dimmi se questi quattro generali avevano delle informazioni e non le hanno trasmesse agli organi politici e quindi la corte d'appello un po' in forma un po' pilatiana un po' in forma anche un po' per noi che eravamo parenti l'abbiamo percepito anche in modo un po' sarcastico devo dire ci ha detto voi avete sostanzialmente sbagliato ad affidarvi a questi questo centinaio di periti questo centinaio di periti non ha raggiunto delle conclusioni univoche da un lato c'è una perizia che fa riferimento all'ingegnere Misiti ad altri soggetti che ne dice una dall'altro ci sono altre 15 20 30 perizie secondo il profilo con cui si guardano esplosivistiche trattografiche radaristiche che mi dicono mi danno un'altra prospettiva ma siccome la scienza non si è messa d'accordo questa corte non può nemmeno prendere posizioni su questo c'è una frase contenuta nella parte finale di questa sentenza che esplicitamente fa un'elencazione delle sue negazioni infatto cioè dice non è stato missile perché io non ho trovato un frammento del missile all'interno del Dicinove non è stato sicuramente bomba perché la bomba intanto sarebbe stata rivendicata e poi non si capisce quale potrebbe poteva essere il meccanismo esplodente di questo ordigno interno perché aveva un orologio e allora questo non è possibile perché l'aereo Dicinove dell'Italia era partito due ore in ritardo quindi sarebbe esploso già nell'aeroporto di Bologna e quindi esclude anche la bomba esclude anche il cedimento strutturale perché non non ci sono evidenze di questa di questa causa ed esclude qualsiasi causa e in ogni caso dice ma comunque in ogni caso io questo lo dico seppur non mi sia stato chiesto tanto per rispondere a qualche articolo di qualche giornalista ti dico che secondo me ha fallito la scienza è un fallimento della scienza è un fallimento dei periti fate un altro processo mettetevi d'accordo e trovate la verità digustica e in questa maniera se ne uscì debbo dire e non per essere prolisso che ahimè nel frattempo quando in primo grado i giudici erano in camera di consiglio per decidere le sorti di questi quattro generali già la politica aveva fatto dei passi proprio e tra l'altro pubblicizzandolo anche in testate giornalistiche di primo rilievo ci furono delle interpellanze parlamentari che furono mandate in onda anche in diretta dove dei parlamentari si facevano la domanda su quale fosse la causa o la responsabilità della strage digustica guarda caso questi parlamentari quello che doveva dare la risposta era uno di quei periti che sosteneva la teoria della bomba si chiama Aurelio Misiti lui era il presidente di un dell'unico collegio poi alla fine che nell'ambito delle indagini del processo digustica sostenne la teoria della bomba conclusione molto criticata sia da parte della procura della repubblica di Roma sia da parte degli avvocati difensori delle parti civili e oggettivamente veramente se volete ci torniamo anche nei dettagli di queste conclusioni peritali molto molto poco credibile e molto molto poco tecnica in realtà questo condizionamento più mediatico politico mediatico non ebbe alcun effetto nei confronti evidentemente della corte di primo grado che infatti condannò e quindi io non faccio politica quindi non so chi sono i nomi dei nostri politici ma comunque successe che a un certo punto un governo cad la faccio breve un governo cad come tanti altri e uno degli ultimi atti proprio in costanza di precipitazione di quel governo fu quello di apporre una modifica all'articolo 289 del codice penale e l'articolo 289 era quello per cui ripeto erano processati questi generali e prevedeva che chi impedisce o turba l'esercizio delle prerogative di stato è condannato fu depenalizzato nel senso di aggiungere una modifica alla premessa dell'articolo e fu aggiunto con atti violenti e quindi adesso se voi leggete l'articolo 289 funziona super giù così chi con atti violenti impedisce o turba è punito evidentemente il processo della saggia giustica non era un atto violento contestato a quei quattro generali perché era un reato prettamente omissivo quindi quella aggiunta di quella locuzione con atti violenti si si tradusse in una esplicita depenalizzazione di tutti le imputazioni di articolo 289 che riguardavano reati omissivi c'è da chiedersi però quanti processi siano stati tenuti dal dopo fascismo fino adesso con l'imputazione di articolo 289 del codice penale se volete prima che ve lo andate a cercare sul web ve lo dico io uno esattamente quello della strage di giustica non altri quindi in realtà fu una depenalizzazione ad personam noi a seguito della soluzione della corte d'appello volevamo fare il ricorso in Cassazione quanto meno per trovare una formula assolutiva non tanto finalizzata alla mancanza delle prove perché questi documenti e queste informazioni li avete talmente nascosti bene che io non sono in grado di sapere se ce le avevate o meno e quindi non vi posso condannare noi volevamo che essendo sopravenuta questa depenalizzazione quanto meno per ragioni più di dignità fosse affermata dalla Cassazione una diversa formula assolutoria assolvili perché il reato non è più previsto dalla legge perché questo decreto legge ha di fatto depenalizzato il reato di omissione di informazioni ma noi andavamo col vecchio rito il vecchio processo penale che poi nell'88 fu cambiato ma noi dovevamo proseguire con le vecchie regole stabiliva che le parti civili non potevano fare ricorso in Cassazione e quindi la procura generale ritenne con un atteggiamento assolutamente lodevole quantomeno dal punto di vista etico perché noi si ripete rappresentavamo i parenti di 81 vittime di una strage ritenne di poter fare un ricorso in Cassazione nell'interesse delle parti civili questo ricorso in Cassazione la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile e ha voluto aggiungere la Corte Suprema di Cassazione che comunque non ci sono vizi logici talmente gravi in quel ragionamento che fece nelle 100 pagine la Corte d'Appello e che quindi la sentenza non andava cassata non andava riformata anche perché si ripete comunque sia il reato è stato depenalizzato e quindi in ogni caso non si poteva più fare quel processo questa è la sintesi se devo rispondere a quella domanda come mai su web ci sono dei video piuttosto che articoli ma interi libri devo dirvi insomma occupandomi di questa questione insomma conosco quasi tutto e quasi tutti non lo so non lo so io non so perché quando si legge un testo di una sentenza si legge un rigo sì e un rigo no non so perché una sentenza di un tribunale per quanto giusta o sbagliata si possa percepire si debba leggere in maniera così parziale non capisco perché le frasi dalle frasi si possa o si debba o ci si possa arrogare il diritto di poter totalmente travisare il contenuto di quello che comunque è un giudice se ritenuto in errore o se ritenuto nel giusto non è molto importante comunque un giudice in nome del popolo italiano ha scritto le frasi che dice la corte d'appello penali sono quelle che vi ho detto io sono riferite a tutte le ipotesi missile, bomba cedimento strutturale e quant'altro quant'altro di possibile ipotizzabile anche un uccellino un ufo piuttosto che come dire interventi divini o quant'altro e li esclude tutti semplicemente ragionando punto per punto su ogni singola possibilità e ribaltando la responsabilità sulla mancanza di bravura o sulla non capacità dei periti di mettersi d'accordo con una soluzione univoca che all'epoca ma anche adesso è comunque contestata e siccome non è univoca la corte ritenne di non poter prendere posizione Sì sento avvocato ci sono tanti interrogativi su questa vicenda ci sono interrogativi che riguardano l'ha detto lei le cause della tragedia ma io ne vorrei altri di interrogativi ne vorrei anticipare altri perché nonostante trent'anni di lavori della commissione stragi non si è arrivati a un processo su Ustica perché nonostante tante indagini non si è arrivato un processo nemmeno per quello che avvenne a Timpa delle Magare sulla Sila il MIG libico che tanti hanno visto come connesso alla vicenda di Ustica perché non sono state effettuate alcune rogatorie che sembravano fossero necessarie nei confronti anticipato anche lei degli alleati diciamo così della regione dell'Italia a cominciare dai francesi perché non è stato fatto tutto questo voi come rappresentanti delle vittime dei parenti delle vittime potevate fare qualcosa o vi è stato impedito anche in questo caso allora questo si ricollega molto bene alla diversa soluzione che della questione ha dato la magistratura civile quella sentenza di assoluzione scritta in quella maniera che rispondeva agli articoli giornalistici l'imposizione di limitare insomma a 20 minuti la discussione quantomeno del sottoscritto che non era unico difensore delle parti offese perché eravamo circa 36 avvocati ci indispetti ma soprattutto se quella sentenza di corte d'assise penale ebbe una pecca fu quella di farmi incazzare si può dire? si 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 può dire non c'è problema l'ho detto e quindi io decisi di fare una diversa domanda a una magistratura più pertinente vi ricordo che nel processo penale la domanda era ma questi generali avevano delle informazioni che non hanno dato al potere politico io volevo fare un'altra domanda io volevo fare perché sono morte 81 persone e volevo anche fare un'altra domanda e chi è stato? e volevo fare anche una terza domanda ma ci sono delle responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza di quel volo parlo del ministero dei trasporti e in particolare del ministero della difesa e ci sono delle responsabilità su chi avrebbe dovuto garantire il diritto alla verità il diritto alla giustizia preservando la documentazione preservando le informative trasferendo quello che era in suo possesso all'autorità giudiziaria e allora dopo un anno di preparazione decisi di fare e avviare un processo civile e lo avviai in più tronconi per circa 140 parenti e ho posto questo tipo di domanda al giudice pertinente che è il giudice civile cambiando dalla domanda è cambiata la risposta al giudice penale non era mai stato chiesto dimmi chi è stato non è mai stato chiesto dimmi cosa è successo l'unica domanda lo ripeto ancora una volta ma questo a riprova dell'infondatezza di certe versioni che purtroppo uno è costretto a ripetutamente dover ascoltare e dover leggere la domanda è totalmente diversa giudice civile chi è stato tu puoi capire cosa è successo mi puoi dire perché è morto mio figlio mentre il giudice penale era ma questi generali hanno impedito l'esercizio dell'attribuzione dello Stato avevano delle informazioni ora il dato essenziale è che noi in realtà nel processo penale eravamo parti civili e ci siamo resi conto di due circostanze molto rilevanti la prima è che c'è stato un'operazione di depistaggio di devastazione documentale di intervento ingerenza nelle prerogative tipiche della magistratura ma anche della polizia giudiziaria sia da parte di come dire un misto tra militari e servizi che dovunque acquisivano documenti dovunque scambiavano documenti dovunque facevano sparire documenti noi avevamo sette radar militari che guardavano la sera del 27 giugno non c'è niente agli atti e quando gli atti erano informatici perché i siti erano informatizzati gli si registrava di sopra qualcuno dice dispiace quando invece erano cartacei perché c'erano i siti fonetico manuali tipo quello di Licola che registravano su un registro che si chiama DA1 le pagine erano strappate ma strappate con la lametta quindi strappate bene la magistratura non ha trovato niente guardate che ustica per me che me ne sono occupato e che me ne occupo da tanti anni e che faccio l'avvocato fa ancora venire la pelle d'oca quando tu fai una ricognizione di quello che ci sarebbe dovuto stare di quello che avremmo dovuto trovare di quello che avremmo dovuto sapere rispetto a quello che è stato fatto sparire non che è sparito per causalità perché la causalità tu la ritrovi in un caso in due casi insomma se sei proprio sfortunato in dieci casi ma non in mille casi e qui si ritorna a quei 67 imputati di reato connesso che furono prosciolti per intervenuta prescrizione e allora tu cosa fai chiedi a un altro giudice dimmi la verità io ti porto tutti gli atti di un dibattimento durato quattro anni e mezzo in sede penale ti porto cento perizie ti discuto tutte le singole ipotesi perché credetemi a un padre a cui è morto il figlio non interessa spingere o perorare l'ipotesi di un missile piuttosto che della bomba piuttosto che dell'uccellino vuole soltanto come dire seppellire il figlio queste persone sono ancora lì che volano sono esplose a 7000 metri l'aereo si è aperto sono state espulse per chi non era cinturato hanno volato insieme sono precipitate insieme e credetemi lo dico da chi si è occupato di questa vicenda fino a quando non si trova il colpevole non si capisce non si dà una risposta a che cosa è successo quella maledetta sera queste persone sono ancora lì che volano ora va bene che dobbiamo anche abrogare adesso recentemente il reato di tortura ma se non è questa una tortura per chi è rimasto vivo ma anche per chi non è più vivo ed è costretto a dover sopravvivere e cercare di ritornare per poter gridare la propria verità quindi noi andiamo da altri giudici e altri giudici si studiano le carte del processo penale io cerco di spiegare aiutato devo dire in maniera spassionata dal Politecnico di Torino dal Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale di Napoli sono delle eccellenze a livello di fisica di aeronautica e quant'altro e tutti quanti mi dicono qui esploso un missile la sequenza di destrutturazione è questa si comincia a staccare la finestratura anteriore destra il pilota lancia un grido che scopriremo molto da recente non è quel guà strozzato che era stato dichiarato nella prima fase delle indagini ma è un guarda cos'è ci indica qualcosa che arriva c'è un contesto radaristico molto complesso nessuno aveva mai chiesto dei francesi nessuno aveva mai chiesto dei francesi i francesi non non c'erano nell'anato militare eppure a Solenzara che è in Corsica a 150 miglia dal luogo in cui avviene l'esplosione del 19 loro decollavano e atterravano la sera del 27 giugno fino a oltre mezzanotte c'erano i belgi i belgi erano a Solenzara con i francesi un paio d'anni fa hanno risposto a una richiesta di rogatoria hanno detto non possiamo rispondere perché la questione è coperta da segreto militare traducete dopo 40 anni c'è un segreto militare traducete in italiano vuol dire è stata una guerra se c'è un segreto militare il belgio non può rispondere vuol dire tradotto in italiano perché c'è stata una guerra abbiamo chiesto agli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno detto i nostri aerei non erano in volo la sera del 27 giugno poi noi abbiamo delle altre informazioni voi sapete che gli Stati Uniti funzionano al Freedom Act dopo un determinato periodo non ci sono più segreti e quindi chiunque può chiedere e quindi io da cittadino del mondo ho chiesto e mi è arrivato un pacco che non mi entrava neanche in studio tanta documentazione tutta americana tutta statunitense dopodiché una lettera carissima di accompagnamento del responsabile che mi diceva gentile avvocato questa è tutta la documentazione in nostro possesso poi noi abbiamo altra documentazione ma noi guardi che questa documentazione non gliela possiamo purtroppo dare perché la Freedom Act funziona soltanto per i documenti e le informazioni che riguardano gli Stati Uniti e siccome questi altri documenti riguardano altri paesi europei e della Nato e questioni militari ahimè le dico che ce li abbiamo ma non gliele possiamo dare traducete traduciamo in italiano è stata una guerra è stata un'aggressione militare io poco fa vi dicevo che noi avevamo sette radar militari che guardavano quel punto beh quel punto quando noi abbiamo iniziato il processo era segnato nelle cartine aeronautiche con il punto Doras nessuno sapeva che si chiamava il punto Condor neanche il giudice istruttore se ne era accorto questo ce l'ha detto un test nel 2000 nel 2001 a una domanda che insomma feci io ma per puro caso perché avevo avuto una beccata dice chiedigli cos'è il punto Condor cos'è il punto Condor e la risposta fu avvocato mi mette in imbarazzo dico scusi è un punto aeronautico eh sì è un punto aeronautico ma cos'è il punto Condor il punto Condor è un aborto è una brutta parola perché Condor si scoprirà poi Fabrizio Colarieti del di Stragio 80 ci ha fatto un libro si chiama il punto Condor perché lui era presente all'udienza era presente in quell'udienza si scoprirà che il punto Condor gli fu cambiato nome nell'immediatezza dei fatti era Condor perché era un punto dove l'aereovia civile che fate conto che è come un'autostrada non può avere bivi non può avere semafori non può avere soprattutto intersezioni non possono mica passare i greggi di pecore in autostrada se no se c'è qualche incidente l'ANAS ne è responsabile il gestore dell'autostrada e invece si scopre che il punto Condor era un punto che aveva due particolari caratteristiche la prima che era intersezionata dalla Delta Whiskey 12 che era un'aereovia militare francese e uno si chiede ma che dove erano i francesi che c'entrano i francesi per trent'anni nessuno ha mai parlato dei francesi dove erano i francesi e le portaeree dei francesi dove erano ci sarà risposto che le portaeree la Clemenzoa e la Foc da parte dei francesi in una delle pochissime prerogatorie alle qualità hanno risposta erano ambedue in un porto Tolosa però invito chi mi ascolta andare a guardare su Google ma per porto ancora adesso dopo quarant'anni ci entra solo una portaeree quindi o erano una sull'altra o ambedue in manutenzione in quel porto non ci potevano stare abbiamo chiesto i tracciati di percorrenza di queste portaeree non ci sono stati dati abbiamo chiesto i giornali di bordo ci sono stati dati scritti con la stessa penna e con la stessa calligrafia quindi in realtà per rispondere perché non la verità noi come parenti delle vittime non facciamo altro che chiederla forse a qualcuno fa molto più comodo non sapere la verità per diversi motivi noi abbiamo anche fatto un arrogatorio al Parlamento Europeo abbiamo chiesto la costituzione di una commissione dell'inchiesta abbiamo denunciato esplicitamente l'omertà della Francia abbiamo chiesto che intervenisse durante l'aggressione da parte della Francia e della Libia che poi si è conclusa con l'uccisione di Gheddafi voi sapete che la Francia è entrata prima della Nato quando c'è stata l'invasione della Libia e abbiamo chiesto la costituzione proprio in quel momento e abbiamo chiesto che alla commissione fossero attribuiti i poteri di acquisire anche gli archivi dei servizi segreti libici che parlavano tanto di Ustica vi ricordo che Gheddafi il giorno dopo della strage di Ustica farà su un giornale palermitano che si chiama Valora un'intera doppia pagina di condoglianze ai parenti della strage di Ustica che centrava Gheddafi in questa storia io quello che posso dire alla domanda è che in realtà come è esploso il 19 sostanzialmente noi lo sappiamo e debbo confessarvi forse anche come io parlo poco anche dei come dire dei fatti che accadono all'interno dei processi ma adesso il processo civile i processi civili sono stati tutti sono terminati tutti sono stati tutti confermativi della gravissima responsabilità sotto due aspetti la gravissima responsabilità nella causazione per non avere garantito la sicurezza del volo avere consentito le intersecazioni di una riavia civile e non avere fatto sollevare gli intercettori quando si vedeva un contesto radaristico molto complesso con la presenza di aerei militari con lo strasponder spento in pieno assetto di guerra nelle immediate vicinanze del vicino e per un altro aspetto sono stati condannati questi ministeri per avere depistato in maniera poderosa per avere fatto sparire migliaia e migliaia di informative vi do una notizia a queste due condanne reiterate dalla corte d'appello di Palermo in sei sentenze di poderosa condanna a un risarcimento del danno i ministeri hanno prestato coscienza non hanno impugnato in sede di Cassazione hanno accettato la debito di responsabilità per non avere garantito la sicurezza di 81 civili italiani ahimè e non mi piace ricordarlo 12 bambini e per avere depistato tutto ciò che riguardava la verità di Ustica quindi adesso chiedersi cosa è successo piuttosto che solamente limitarsi a doverlo intuire è diventa un po' arduo perché se non hai il documento ti manca la prova e quindi per chi dice non ci sono prove del missile è un po' come nascondersi dietro il titino no? perché poi vi faccio un altro esempio pertinente a questo i sette radar militari non ci danno niente questo ve l'ho detto ma ci sono due radar civili che sono il Selenia e il Marconi che registrano sono posti a Ciampino il Selenia non ci danno niente perché era quello moderno che era quello buono del Marconi ci danno su otto registrazioni contemporanee perché ai tempi era molto analogico c'erano queste grandi pizze queste grandi bombine su otto pizze di registrazione in contemporanea perché poteva accadere che come dire un canale di registrazione andasse in tilt era molto comune quindi c'erano si risolveva ai tempi registrando più volte con più canali di registrazione su otto pizze ci danno soltanto tre pizze vabbè cinque dispiace e ce le danno ma non ci danno i codici di decripitazione perché sono militari perché i radar pur controllando allevoli civili sono militari e quindi in sintesi su nove radar ci danno meno della metà di un radar di registrazione tanto tanto il Marconi oltre centomiglia non registra il fatto è accaduto a centotrenta miglia quindi ti posso dare la pizza però non ti do i codici i codici ci diranno dopo circa venticinque anni quando noi i nostri periti riescono il Politecnico di Torino riesce a dare un senso con questi codici di decripitazione io non mi dimenticherò mai questa telefonata mi chiama il professor Vadacchino Mario Vadacchino che è uno dei tre professori Algostino Penta e Vadacchino che si sono presi degli anni sabautici per poter aiutare i parenti delle vittime di Ustica sul piano tecnico professore di fisica matematica ma anche di radaristica piuttosto che di fisica applicata al volo e mi dice ce li abbiamo dico cosa Mario sei seduto o stai all'impiedi mi siedo ce li abbiamo li vediamo la sera del 27 giugno del 1980 è stata una bella giornata e il radar anche se non avrebbe potuto ha registrato dopo i 100 miglia ha registrato a 130 miglia noi vediamo un aereo sotto il 19 a traspondo e spento che si nasconde nella scia radar del 19 uno o due aerei questo non lo possiamo dire che scendono giù da Ciampino da Roma e seguono e probabilmente lo erano già prima se volete vi do anche dimostrazione di questo ma purtroppo tutti i testimoni che hanno gridato scuoccato gli allarmi e lanciato questo allarme sono tutti morti state tranquilli e morti di morte violenta però non naturale tutti coloro che da Bologna fino a Roma hanno visto qualcosa sotto il 19 sono tutti morti di morte violenta e sono tanti se volete vi faccio l'elenco dopodiché da Roma in poi c'è il mare e a quel punto continua a vedere soltanto il radar e Marconi registrava e l'ha registrato poi Marconi però cosa vede tanti piccoli plot i plot sono le battute radar che durano uno due tre battute e poi vanno via questo perché perché il mondo è rotondo e quando un radar guarda lontano a un certo punto con la curvatura terrestre non riesce a vedere sotto una determinata altezza quindi sono degli aerei che si sollevano in quota e poi dopo un po' si abbassano questo vuol dire in gerco viene chiamato razzolare la sera del 27 giugno i radaristi di Ciampino diranno di avere visto tanti aeri razzolare nel cielo di Ustica comunque sia questo razzolamento viene pure registrato e noi li vediamo poi scendono scendono o vanno via o atterrano da qualche parte certo un aereo militare non atterra nell'acqua quindi o c'è una porta aerei o c'è una base vicina o c'è la Clemenso che è la porta aerei francesi oppure vanno ritornano in qualche aeroporto militare nelle vicinanze c'è Solenzara che è molto vicino abbiamo dei testimoni che sono venuti a giurare nel processo che nonostante come dire la paura di doverlo fare ci hanno giurato di avere sentito visto la sera del 27 giugno decolli atterraggi decolli atterraggi sull'aeroporto di Solenzara in continuazione fino alle 2 di notte invece ufficialmente la Francia ci rispose non è alle 6 di pomeriggio ricordo a tutti che l'aereo civile di Ustica viene abbattuto alle 9 di sera la Francia ci risponderà noi alle 18 abbiamo spento tutto è tutto chiuso non era vero non è vero ce lo dice pure l'ex presidente Cossiga che si rivolge a dei giornalisti dicendo beh io ho saputo che sono stati francesi che lo hanno tirato giù con un missile Francesco Cossiga questo per la cronaca decide di parlare quando ha notizia del fatto che il processo penale si è chiuso si è chiuso con la soluzione così come ho raccontato dei generali in realtà Cossiga era stato sentito durante il processo penale la sua audizione è durata pochissimi minuti lui si è seduto e ha detto io non so niente non nessuno mi ha mai riferito nulla e andò via finisce il processo penale e ovviamente io inizio il processo civile sono incazzato mi faccio il processo civile ma ovviamente io non mi faccio pubblicità Francesco Cossiga non lo sapeva quindi che io facevo il processo civile e quindi si sente libero una volta finito il processo penale di poter parlare con i giornalisti tanto quello che uno dice ai giornalisti insomma trova il tempo che trova sia per il giornalista sia per lui ma io sto facendo un processo civile e guarda caso sono lì che sto scrivendo la memoria istruttoria che è la memoria dove l'avvocato che fa il processo civile chiede fa l'elenco dei testi il giornalista che è Max Giannantoni un mio carissimo amico e il primo col quale Cossiga parlerà mi chiama subito mi fa sentire la registrazione di quello che gli dice Cossiga sappiate che io il giorno dopo mi scaderà il termine della memoria l'ho scritto di notte ho chiamato Cossiga lui non voleva venire ha protestato più volte il tribunale da Palermo l'ho obbligato a venire come ex presidente della Repubblica lui poteva decidere secondo una strana regola che non ho mai capito quando e dove lui decise un giorno e sul dove decise di essere sentito a casa sua in vestaglia e così andammo noi come tribunale a Roma per rogatoria siamo andati per delega siamo andati a sentire il senatore Cossiga che ci ha confermato questa volta sotto giuramento quello che aveva detto ai giornalisti e cioè prodotto in sintesi che lui aveva saputo dall'ex capo dei servizi segreti che si chiamava Santo Vito che la sera del 27 giugno dei Mirage francesi avevano fatto un'operazione militare di intercettamento che obiettivo di quell'intercettamento era un probabile volo di Gheddafi che tornava dalla Jugoslavia verso la Libia e che purtroppo siccome l'aereo il 19 dell'Italia che aveva 81 civili italiani e mi piace ricordarlo questo era decollato ahimè con due ore di ritardo l'intercettamento si è rivolto nei confronti di un aereo civile che i francesi non avevano ben identificato questi missili lo hanno tirato giù e aggiunge così che ha specificazione a riprova che poi questi aerei sono francesi sono atterrati sulla Clemenzo questo è sotto giuramento quindi non è un'informazione che io vi do così è una verbalizzazione giurata questo pilota che atterrerà sulla Clemenzo quando scenderà dall'aereo gli diranno hai sbagliato aereo hai tirato giù un aereo civile si suiciderà queste sono le informazioni sotto giuramento di Francesco Cossiga oddio non abbiamo mica la foto di questo suicidio piuttosto che il nome adesso la procura della Repubblica a seguito di queste dichiarazioni di Cossiga ha riaperto le indagini so che la procura della Repubblica di Roma ha fatto delle richieste di rogatorio alla Francia so anche che ha chiesto tutti i nominativi di quelli che erano presenti a Solenzara ha chiesto dove abitano ha chiesto chi era a bordo della Clemenzo parliamo di migliaia di persone la Francia so che ha risposto che non ha più gli indirizzi poteva anche andare su Google comunque sia o forse Facebook sarebbe stata una soluzione più semplice comunque sia se la domanda in origine era se c'è un contrasto tra il giudicato penale e il giudicato civile no le domande erano completamente diverse e le risposte sono totalmente diverse il giudice civile non doveva rispondere se era stato un missile o se era stato una bomba doveva rispondere se c'era una responsabilità dei ministeri e se c'è stato depistaggio ed è questa la risposta che ha dato e vi ripeto i ministeri hanno prestato a coscienza cioè hanno detto questa condanna e questa responsabilità me la prendo tutta perché è vero ora per inciso e questo ci tengo a dirlo perché leggo e vedo che qualcuno faccia anche una questione di speculazione economica in realtà con un marchi ingegno che mi ricorda tanto quella finta depenializzazione dell'articolo 289 del codice penale di cui vi dicevo prima per l'unico processo tenutosi in Italia dal dopoguerra con un'interpretazione particolarissima che parte dal presupposto che il diritto della vita non è codificato e quindi non è risarcibile avete capito bene la vita non è un diritto secondo i ministeri che erano convenuti in quel giudizio confermato dalla Cassazione la vita non è un diritto perché nessun politico ha mai scritto in qualche legge che la vita è un diritto e a nulla è valsa la semplice obiezione che la vita è la fonte di qualsiasi diritto ma loro sono magistrati e quindi hanno deciso che in realtà i risaccidenti se ne dovessero veramente pagare soltanto per non essere tecnico la quota che riguarda la disgregazione del rapporto parentale e quindi iure proprio del parente che in quel preciso momento perde il padre piuttosto che la madre piuttosto che il figlio siamo a livelli di risarcimento ridicoli nella sintesi però i parenti delle vittime di Ustica non hanno preso risarcimento per un'interpretazione estremamente cavillosa che io non perché si è interessato ai soldi dei miei assistiti ma veramente ci sono anche dei limiti anche alla dignità giuridica per qualche magistrato che debba affermare certe cose e lo dico senza paura dei magistrati perché io ho grandissimo stima e rispetto dei magistrati e le sentenze di condanna che noi abbiamo avuto e di conferma dei fatti e di conferma delle ipotesi su cui noi abbiamo sempre lavorato le abbiamo avute e le abbiamo avute anche collegiali e le abbiamo avute concordi da corti d'appello a sezione a sezione diversa e quindi da tribunale da giudici di tribunale diversi e quindi c'è come dire una linea di uniformità nelle decisioni della magistratura ahimè però poi quando noi in Italia si tratta di pagare i risarcimento le vittime di ustica i parenti delle vittime di ustica hanno visto veramente ma che vi posso dire forse se invece che esserci 81 persone 81 vite quella sera c'erano 81 autovetture forse avremmo preso più soldi ve lo dico con molta chiarezza vi ripeto io non faccio una questione economica però c'è anche un problema di dignità oltre che di una questione giuridica purtroppo questa dignità mi è sembrata mortificata ancora una volta nonostante questo io spero di essere stato di aver potuto rispondere sì ecco avvocato per ustica si è parlato di vergogna di stato si è parlato di muro di gomma è diventato anche il titolo di un film diversi anni io voglio riprendere da quel film che è stato sceneggiato da un collega Andrea Purgatori che quando scriveva Pericoliera della Sera si è occupato in prima persona del caso vorrei riprendere una battuta di quel film la battuta è questa perché chi sapeva è stato zitto perché chi poteva scoprire non si è mosso perché questa verità era così inconfessabile da richiedere il silenzio l'omertà l'occultamento delle prove c'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980 c'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa che andavano in vacanza che leggevano un giornale o giocavano con una bambola quelli che sapevano hanno deciso che i cittadini la gente noi non dovevamo sapere hanno manomesso le registrazioni cancellato i tracciati radar bruciato i registri hanno inventato esercitazioni che non sono mai avvenute intimidito i giudici colpivizzato i periti e poi hanno fatto la cosa più grave di tutte hanno costretto i deboli a partecipare alla menzogna trasformando l'onestà in viltà la difesa disperata del piccolo privilegio del posto di lavoro in mediocrità in bassezza perché perché allora io adesso le chiedo in Italia si deve arrivare a tutto questo per l'interesse di pochi contro l'interesse pubblico che dovrebbe essere quello dominante la giustizia dovrebbe tutelare il pubblico perché non lo si fa Andrea Purgatori aveva già capito tutto negli anni 90 lo saluto attraverso il web se avrà il tempo di ascoltarci lui è un mio pezzo di cuore abbiamo passato un pezzo della nostra vita anche insieme con Andrea Andrea fa il giornalista ahimè noi quel poco che in realtà sappiamo veramente di Ustica è grazie ai giornalisti se non ci fossero stati dei giornalisti di inchiesta faccio l'esempio di Andrea ma piuttosto per esempio mi piace ricordare giornalisti della RAI che la mattina del 28 giugno del 1980 sono lì con l'elicottero e filmano alle 7 di mattina in particolare Giuseppe Marrazzo che adesso non c'è più filmano i corpi che galleggiano ecco questo filmato dei corpi che galleggiano troverà una corrispondente risposta in un rapporto che farà il colonnello russo che era il radarista di Ciampino chiamato a ricostruire il punto esatto di caduta per mandare i soccorsi che sarà poi anche l'autore di quel tracciato radar che viene dato alla magistratura sul quale lui lavorerà tutta la notte per epurarlo da tutte le battute radar degli aerei non identificati militari che erano intorno quindi perderà un'intera notte per pulirlo da questi plot non identificati e che danno molto imbarazzo all'aeronautica militare dando soltanto le battute del 19 quando poi in realtà in udienza ci metterà 13 secondi per trovare il punto dove mandare i soccorsi voi immaginate il cinismo che c'è dietro a tutto questo lui viene chiamato alle 10 di sera uscirà alle 9 di mattina col punto dove mandare i soccorsi con un disegnino col tracciato del 19 lui metterà 11 ore per pulire quel tracciato radar per mandare i soccorsi lui non sa se l'aereo è ammato sa che ci sono 81 persone non sa se sono sopravvissute non sa in che condizioni lui manderà i soccorsi dopo 11 ore pur sapendo che in 13 secondi lui il punto di ammaraggio o di precipitazione lo aveva trovato ecco quei giornalisti che invece filmano e mandano le notte alle 7 di mattina piuttosto quelli che hanno l'intuizione io mi sono sempre chiesto se in Italia vi fosse un reato di ignobiltà per la questione di justica le carceri si sarebbero riempite io vi dicevo poco fa che l'Italia era la trincea della Nato l'Italia era la porta aerei della Nato noi nel sistema NEJ eravamo l'ultima frontiera in Italia i fiumi di miliardi che mi ricorda tanto non l'attuale ma quella insomma di qualche decennio fa protezione civile dove non c'era bisogno di nessun particolare controllo per i flussi di miliardi ecco moltiplicate per mille noi abbiamo trovato prova ma prova documentale che questa gente per asfaltare un piccolo aeroporto faceva costare un miliardo al millimetro un miliardo al millimetro quadrato la spendita di denaro e la gestione del potere denaro in ambito militare in contesto nato nel sistema NEJ per i generali italiani voleva dire poter prendere l'elicottero andare in Russia andare e fare le festicciole con le prostitute piuttosto che comprarsi i castelli piuttosto che gestire miliardi miliardi e miliardi senza nessun controllo allora c'è una frase tra quelle che io condivido tutte che lei ha letto del libro del muro di gomma di Andrea che aveva capito tutto negli anni 90 che è la frase che fa riferimento ai criteri di ignobiltà che hanno spinto per la salvaguardia del posto di lavoro perché in realtà quando loro hanno capito che cosa era successo loro non sono andati in protezione per ragioni di alto profilo per ragioni di salvaguardia politica o per tutela del paese Italia o per una questione nato che ne potesse valere minimamente la pena rispetto alla morte di 81 persone è stata semplicemente ignobiltà ignobiltà d'animo aridità caratteriale attaccamento a quella posizione di privilegio che loro avevano ecco io dico questo se loro avessero avuto semplicemente come dire l'idea guardi vi racconto vi racconto un fatto i militari amavano registrarsi tra le pochissime registrazioni che ci sono pervenute una è sfuggita ahimè questa è sfuggita ed è è stata rimasta incompresa per tanti anni fino a quando non si scoprì che il punto d'horas in realtà coincideva con il punto di esplosione del 19 e prima si chiamava Condor e alle 10 di sera un controllore di Ciampino preso atto che non riuscivano più a contattare via radio il 19 chiama il generale Mangani generale Mangani era il capo di reparto e gli dice comandante generale Mangani risponde un po' infastidito a quell'ora di sera forse dormiva forse era impegnato in qualche festa adesso questo io non lo ricordo comunque era infastidito generale abbiamo perso un aereocivile dove sul Condor a pausa tre secondi circa di pausa allora guardate se qualche pollaccione si è scontrato capisco l'espressione è bastato dire Condor e la soluzione ce l'avevano già guardate se qualche pollaccione si è scontrato perché loro lo sapevano che quella era un'autostrada dove attraversavano i greggi di pecore dove c'era il pastore che era francese che attraversava i greggi di pecore un'aereovia civile è larga 9 miglia sono circa 16 chilometri non può essere attraversata non può essere attraversata da eroevie militari operative tanto meno di un paese che non fa parte della NATO militare un'ora dopo il capo di reparto guardate se qualche pollaccione si è scontrato quale bomba quale cedimento strutturale qua si parla di scontro questo denota la conoscenza della gravissima pericolosità di quel punto le dico anche di più tutti i sette radar che guardavano militari ovviamente quel punto in teoria avevano la copertura perché avevano la possibilità di arrivare però nei regolamenti dove si erano prestabilite le competenze di zona nessuno dei sette radar aveva competenze sul punto condor vuole sapere cos'è un punto condor il punto condor era il buco nero della NATO lì chiunque poteva passare chiunque poteva fare quello che voleva e nessuno voleva nemmeno vederlo perché sapevano che quello era un punto da cui sarebbe scaturita una grande responsabilità prima o poi noi abbiamo sentito decine di piloti civili che atterrando a Palermo avevano lamentato e denunziato intersezioni di mirage francesi perché un pilota civile li conosce gli aerei militari mirage francesi che gli passavano a due metri non autorizzati e non preavvertiti con i nota atterravano atterravano denunziavano ma nessuno registrava e nessuno dichiarava noi siamo i pollaccioni dottor Bettuzzi noi siamo i pollaccioni che a distanza di quasi 43 anni ci stavano ancora chiedendo che cosa è successo la sera del 27 giugno e perché questi ignobili soggetti hanno preferito ragioni di carriera ragioni di salvaguardia di guardi le dico di più chi non è morto e non è morto per morte violenta ha fatto grande carriera in questa storia se vuole io le mando gli elenchi nominativi quelle 67 persone che si sono trincerati dietro la soluzione per intervenuta prescrizione hanno fatto grande carriera io faccio l'avvocato e in questo modo di fare l'avvocato ho anche l'obbligo di fare una valutazione sulla recuperabilità dei risarcimento di danni le posso assicurare che le ricchezze gli elicotteri i castelli e gli encomi ovviamente anche con le percussioni economici sono grandiose altri invece sono stati uccisi piuttosto che si sono suicidati con le ginocchia che toccavano a terra ma lei ha mai visto se mi consente una piccola divagazione le racconto un attimo determinati meccanismi quando si parla di ignobiltà io devo andare a Roma per ragioni di lavoro mi stavo imbarcando a Palermo sull'aereo mi chiamo un giornalista di un'attestata online ma locale un amico mio mi dice Daniele hai informazioni su Ustica hai qualcosa da dirmi dico no guarda sto andando a farmi un processo completamente una questione diversa dice va bene ma posso posso mandare questa notizia che tu stai indagando sulla questione di Rammstein dico no in realtà non sto indagando dico mi sto interessando questo sì dico scrivi questo il tempo che io atterro a Roma perché ovviamente spengo il cellulare quando riaccendo erano 56 telefonate di numeri sconosciuti lui aveva lanciato questa notizia nei termini che l'avvocato Nato stava guardando Rammstein e l'aeronautica militare era scesa in campo con un comunicato ufficiale dove mi diffidava dall'interessarmi di questioni di ordine militare che riguardavano Rammstein io le devo confessare come lo confesso lei lo confesso in pubblico che di Rammstein non è che mi fossi mai occupato e francamente non mi incuriosi aveva fatto eppure quando io quei 56 numeri che mi chiamarono che volevano capire perché l'aeronautica aveva fatto questo passo così formale tra l'altro perché erano comunicato con una sorta di diffida all'avvocato a impedire di farsi qualsiasi domanda in merito a quella questione capì che aveva toccato un nervo sensibile sai chi sono quei due che si scontrano a Rammstein sono Ivo Nuterelli e Mario Naldini quei due piloti si scontreranno a Rammstein una settimana prima di essere sentiti dal giudice istruttore Rosario Priore e sono esattamente quei due piloti che si alzeranno vicino Firenze da Grosseto che invaderanno l'aereovia Ambra 3 Ambra 14 che il controllore di Ciampino diffiderà a uscire fuori dall'aereovia nel 1980 non si dicevano le parolacce lui è registrato perché chiama il controllore di Grosseto e gli dice levami dai coglioni questi due F104 dalla mia aereovia era tanto arrabbiato non si dicevano le parolacce nel 1980 invadono l'aereovia Ambra 14 affiancano il 19 e scuoccano per due forse tre volte scuoccare un termine tecnico perché sono in silenzio radar quindi in silenzio radio non possono parlare quindi hanno i codici IFF scuoccano tre volte all'allarme generale cosa vedono vedono quell'aereo che si nasconde dietro sotto il 19 lanciano l'allarme generale l'allarme generale è reperito dal sistema NEIJ della Nato tutti sanno che c'è un aereo che sta scendendo con un aereo fantasma si chiama tecnicamente zombie poi loro ritorneranno a Grosseto riferiranno al comandante il comandante morirà in uno stranissimo accidente stradale due giorni dopo quel radarista che è morirà anche lui impiccato dopo un mese perché voleva parlare voleva raccontare lo troveranno in un alberello che non teneva neanche 10 grammi di peso con le ginocchia che toccano per terra impiccato i procedimenti penali circa il suicidio o l'omicidio troveranno il tempo che trovano loro vengono trasferiti Ivo Notarelli e Mario Naldini vanno le frecce tricolori e quando si scopre questa questione stiamo parlando di otto anni dopo vengono convocati si scontreranno l'uno contro l'altro l'uno contro l'altro in realtà quello che penso io che tutti sapevano che gli italiani hanno svolto la loro funzione di vedette che il sistema Nato era consapevole di questo trasporto abusivo al di sotto dell'ombra radar di un 19 della compagnia Italia e che qualcuno forse pensò di intervenire in maniera un po' più violenta e il tipo di missile che colpirà il 19 quando noi abbiamo chiesto al Politecnico di Torino perché in realtà noi abbiamo chiesto all'aeronautica militare italiana ma anche francese di darci le informazioni sul tipo di carica esplodente che avevano i missili in dotazione aria-aria nel 1980 la risposta fu ovvia c'è un segreto militare supplisce il web perché basta andare sul web mettere fare una ricerca soprattutto dei siti americani trovi tutto trovi proprio le cariche il peso tutte le caratteristiche ovviamente si parla di missile non più utilizzati quindi questo segreto militare insomma trova il tempo che trova noi abbiamo chiesto al Politecnico di Torino se un determinato tipo di missie di nome Matra utilizzato negli anni 80 da parte dei francesi avrebbe potuto fare un danno così come lo abbiamo riscontrato nella carlinga del 19 che in questo momento è esposta nel museo per la memoria a Bologna abbiamo chiesto se il danno di destrutturazione la sequenza di destrutturazione che è stata unicovocamente da parte di tutti i periti è ricostruita nella sua sequenza del 19 e io mi aspettavo a dire la verità una risposta molto peritale nel senso di dire sì è compatibile lei sa bene che insomma io da avvocato quando un perito mi dice che è compatibile non sono mai soddisfatto perché essere compatibili alla fine potrebbe anche non dire niente in realtà il polizia di Torino non ha risposte in questi termini ma anzi mi ha detto non è compatibile ma è esattamente questo quello che fa questo tipo di missile esattamente questo cioè ne hanno fatto anche una ricostruzione le dico che quando io l'ho visto sono rimasto un poco perché è un'elaborazione software potentissima estremamente utilizzata con dei sistemi in quel tempo si usavano gli AS400 che sono dei sistemi di elaborazione molto potenti ognuno equivale a circa mille personal computer collegati in rete insomma sono stati lì a elaborare non so quanti giorni e quanti notti di seguito tutti i dati che hanno inserito ed è esattamente quello che fa un missile a un aereo DC9 in volo a 7.000 metri io altre altre questioni non le direi se no due parole sulla bomba se proprio le vuole parliamone senza problemi io più volte ho fatto vedere in ultimo in un programma con proprio su con Andrea Purgatori Atlantide ho fatto vedere la foto del coverino di alluminio che sarebbe il porta fazzolettini che a dire dei periti sostenitori della bomba avrebbe contenuto questa bomba è totalmente intatto è un cover di alluminio leggerissimo ve lo lascio immaginare insomma delle dimensioni di 12 cm di altezza per 22 cm di larghezza vanno incastrati con una specie di lamella che porta i tovagliolini ed è totalmente integro quindi ci troviamo probabilmente davanti al primo caso di bomba a canguro nel senso che l'esplosione ha saltato il suo contenitore e è andata oltre la questione del canguro è utile perché in realtà qualcuno da Marsala rispetto ai circa 80 avieri che erano in servizio quella sera e che riferiranno tutti di non essere in servizio di non avere visto niente se c'erano dormivano e se qualcuno li ha svegliati e si sono ritrovati in bagno però uno parlò e si chiama Luciano Carico Luciano Carico attualmente è sotto protezione e Luciano Carico ci riferì che lui l'ha visto lui da Marsala l'ha visto quell'aereo che lo inseguiva e stava sotto il 19 e a un certo punto ha fatto una grande accelerazione lo ha fatta probabilmente perché viene intercettato da Oves e da altri due aerei e lui vede tutto negli schermi e lo racconta al comandante e il comandante gli dice dovete stare zitti per capirci Luciano Carico è quello che farà la telefonata a quella trasmissione di Aujas telefono giallo ecco avrà questo momento dopo qualche anno e lui lo chiamerà il salto del canguro questo sorpasso di questo aereo che sta sotto l'ombra radar del 19 che a un certo punto fa una grande accelerazione e cerca di scappare tecnicamente si chiama il salto del canguro quindi noi in realtà non solo dal punto di vista aeronautico ma anche dal punto di vista esplosivistico noi abbiamo il primo caso di bomba che fa il salto di canguro esplode ma non fa nessun danneggiamento a tutto ciò che è intorno però apre in 2 119 questo tanto per parlare un attimo della bomba in realtà tutti quanti non sanno collocare in altro posto la bomba e vi devo dire che è tutto quello che noi abbiamo trovato all'interno di quel di quella piccolo bagnetto che era un metro e venti per 90 centimetri di larghezza è sostanzialmente integro il lavandino è integro la tavoloccia del water è integro tutte le tubazioni pneumatiche che passano nella carlinga e sotto il lavandino sono tutti integri tranne tra le decine e decine di altre tubazioni uno uno è schiacciato è quello per tale signor Taylor che fa parte della squadra dell'ingegnere idraulico che ha gestito come dire comandato questo collegio peritale che ha concluso con l'ipotesi di bomba quel tubo schiacciato quell'unico tubo schiacciato è la prova provata del dell'esplosione di una bomba all'interno di quel water io vi dico con molta franchezza vi prego di credermi se io potessi dare ai miei 140 adesso non sono più 140 vanno diminuendo col tempo ahimè purtroppo perché forse questo fa parte anche della strategia perché l'età va avanti per tutti stanno anche morendo tutti stiamo morendo tutti se potessi dare una risposta per poter elaborare come dire il lutto di un figlio piuttosto che di una moglie potere dire è stata una bomba che era dentro la tua letta lo farei questo darebbe pace a loro darebbe pace anche a me perché tutto sommato io quello che potevo fare come avvocato l'ho fatto non mi resta altro che raccontare forse però in realtà mi piacerebbe tanto potergli dare una risposta potergli dire che non hanno sofferto potergli dire che è stato totalmente immediato da non aver capito da non aver nemmeno sofferto ahimè credo che così non è ahimè credo che così non potrà essere perché io penso che chiunque nel proprio lavoro se riesce a mantenere un'idea di onestà e di verità potrà sempre continuare a dormire nonostante la necessità di dover avere a che fare con certe persone che ti negano anche la loro stessa esistenza piuttosto che dover continuare a studiare esami autoptici di bambini lacerati questo questo non fa bene al buon dormire l'unica cosa che ti salva secondo me è dire sempre la verità perché questo ti riequilibria dal punto di vista emotivo e non puoi dire bugie a un papà non puoi dire bugie a un figlio che ha perso il padre non puoi dire bugie bisogna avere un minimo di onestà intellettuale tu puoi decidere di fare di dire bugie se vuoi fare carriera se vuoi fare associazioni farlocche che sostengono teorie diverse se vuoi fare soldi se vuoi fare finta di fare il perito come Taylor che gira il mondo mostrando le sue abilità peritali che lui ha scoperto della bomba di lockerby piuttosto che della bomba di ustica ma non credo che questa gente alla fine quando vada solo a letto possa dormire serenamente io ho deciso di dormire e credetemi non è facile Giovanni non c'è questo se lo possiamo dire non c'è nessun contrasto tra i giudicati penali e i giudicati civili è semplice è facile le domande sono diverse i contesti sono diversi in ogni caso comunque se tu vai sul sito stragiottanta e vai a leggerti e hai la pazienza di farlo ti vai a leggere quella sentenza che loro dicono è la sentenza di corte d'appello penale che dice che è stato una bomba e non è stato emissile adesso non mi ricordo la pagina credo sia la pagina intorno all'ottantesima pagina vicino alle conclusioni cioè ti fa proprio l'elencazione dell'esclusione non è stato emissile per questo motivo questo motivo non è stata bomba e non può essere bomba per questo motivo anzi forse sulla bomba dedica ancora più spazio dicendo escludendo l'ipotesi della bomba quindi in realtà chi dice queste cose due sono le cose o non l'ha mai letta o non sa leggere però purtroppo in Italia succede così partono con una indicazione se tu prendi in questo in questi ultimi dieci anni quel generale quello che va per la maggiore questo che adesso è diventato l'esperto anche della guerra sull'Ucraina come si chiama in questo questo che intervistò Telese io ti invito a vedere l'intervista che ha fatto si chiama Telese questo che adesso fa solo il premonista prima aveva una trasmissione tutta sua sì quello che ha chizzetto Luca Telese Luca Telese Luca io gliel'ho preparata io l'intervista gli ho fatto avere le foto della della toilette le foto questo generale è proprio convinto incredibilmente convinto perché è stato mal informato evidentemente io non posso credere che lui l'abbia letto e abbia fatto un'interpretazione tutta sua è stato mal informato ed è ormai convinto di questa sbagliata informazione e quindi essendo convinto continua a scriverci libri adesso ne ha fatto uno recentemente con un altro perché poi escono fuori gli esperti di questa cosa su Stica non c'è un esperto su Stica ci sono tante devastazioni informative e poi ci sono delle delle intuizioni voi stessi però capite che quando tu hai soltanto le intuizioni perché non hai le prove lì si fermano dove erano le due porterie francesi tutte e due adesso il mio mi confondo sempre tra Tolosa o Tolona non mi ricordo mai qual è il porto Tolone Tolone ecco tutte e due alla fonda del porto di Tolone in manutenzione no perché il molo dedicato all'attracco di queste grandi navi è unico e non può essere utilizzato dall'altro lato per cui o l'una o l'altra se no ne metti uno sull'altra se tu vedi se tu prendi il giornale di bordo della Saratoga il giornale di bordo per capirci è dove tutti scrivono per esempio c'è il comandante che fa una cosa e scrive quello che ha fatto poi c'è il cuoco e dice oggi faccio gli spaghetti va lì e scrive nel giornale di bordo sto calando gli spaghetti il giornale di bordo di una nave è questo quindi va bene che gli americani magari sono un po' più confusionari ma se tu leggi il giornale di bordo della Saratoga è un gran casino le calligrafie sono tutte diverse ma è un disordine totale dovresti vedere il giornale di bordo della Foc o della Clemenzo e di un ordine non c'è una cancellatura e poi guarda caso la calligrafia è la stessa la penna è la stessa quindi o c'era qualcuno che saltava da un'altra o è o è un falso capito io per carità io lì gli ho chiesi al presidente ma una perizia calligrafia e il presidente mi prese per il culo mi fece un sorriso mi ha detto mica dobbiamo processare i francesi in questo processo avvocato andiamo avanti che siamo abbiamo due milioni di atti ce ne stiamo pure a parlare sui francesi ha anche ragione da questo punto di vista però il dato è quello io vi dico soltanto una cosa non so se la volete registrare se la volete inserire che mi sembra molto importante quando noi abbiamo vinto i processi civili a Palermo abbiamo deciso con tutti i parenti di fare una petizione al Parlamento Europeo il meccanismo delle petizioni funziona in due sensi o viene accolta o viene rigettata nella petizione noi chiedevamo la costituzione di una commissione di inchiesta non facevamo nessun atto di accusa nei confronti di nessuno ma semplicemente chiedevamo la costituzione di una nuova ultima definitiva commissione di inchiesta a cui potessero partecipare tutti i paesi anche i paesi sospettati di questa vicenda in particolare la Francia e il Belgio per dare risposta di verità finalmente a questa vicenda la commissione non poteva rigettare la petizione perché non aveva nessuno strumento tecnico giuridico per rimbalzarla però per altre ragioni di ordine prettamente politico che vi lascio immaginare non poteva neanche accoglierla e quindi è andato fuori protocollo per la prima e unica volta nel regolamento parlamentare europeo è successo qualcosa che è fuori protocollo la petizione è stata sospesa la presidente ha deciso di sospenderla di adottare un regolamento un istituto che in regolamento non esiste e attualmente la petizione sulla strage di giustica unica è sospesa non è né archivata è in un limbo tecnicamente ancora valida praticamente non archiviabile e concludentemente non attualibile perché evidentemente subisce un parere contrario da parte di qualche paese mi chiedo perché mi chiedo perché perché non fare una definitiva commissione d'inchiesta che possa ovviamente come una altra ogni altra commissione inchiesta sfondare i segreti di Stato voi sapete che in Francia i segreti di Stato possono essere reiterati all'infinito e opposti all'infinito soprattutto quando riguardano questioni militari o di particolare interesse non possono essere opposti alle commissioni parlamentari di inchiesta quindi l'unico strumento che noi avevamo per sfondare il muro di gomma dell'opposizione del segreto di Stato militare della Francia era appunto la richiesta di una commissione d'inchiesta a cui la Francia si oppone perché la domanda è perché in Italia invece il segreto di Stato è stato risolto in maniera diversa un po' la fantoziana perché noi siamo italiani c'è una direttiva che qualcuno ha voluto volesse per forza prendere il suo nome perché l'intento era molto buono quindi si chiama direttiva Renzi la direttiva dice ministeri tutta la documentazione che sia coperta dal segreto di Stato o no quindi che vi sia stata la posizione dal segreto o no tutti i documenti che riguardano le stragi tra cui anche la strage di Ustica ma non solo tutte le stragi degli anni 90 e così via prendete tutti i documenti controllateli fate un'elencazione e versateli presso l'archivio di Stato di Roma affinché siano accessibili ai cittadini italiani non apponete più non opponete più alcun segreto di Stato e versate tutti questi documenti nella direttiva c'è una contraddizione perché è un po' come se io dico voi capite bene che noi abbiamo fatto delle cause per un addebito di responsabilità dei ministeri trasporti e difese è un po' come dire da parte di un pubblico mistero beh ladro portami la restruttiva dammi le prove del fatto che tu sei stato l'autore del furto e vieni qua così io ti arresto ma da sé che questi documenti ovviamente hanno dovuto necessariamente subire un filtro non tutti i ministeri hanno depositato quello che avrebbero dovuto fare il ministero della difesa e il ministero dei trasporti si sono persi qualche anno che non trovano più e hanno portato quello che hanno deciso loro di portare però a un certo punto una volta che l'hanno fatto noi siamo andati all'archivio di stato e all'archivio di stato semplicemente abbiamo chiesto il diritto che aspetta un qualsiasi cittadino di guardare questi documenti eventualmente fare una richiesta di copia piuttosto che fare una foto o un documento avevamo interesse a incrociare i dati avevamo interesse a non a smettere di elaborare la memoria ma cercare la verità che sono due concetti un po' contraddittori e che forse muovono diversi posti interessi noi vogliamo trovare la verità e quindi siamo andati all'archivio di stato il primo giorno ci hanno guardato un po' male eravamo in due tutta questa gente non l'avevano mai vista all'archivio di stato abbiamo infastidito con la nostra presenza il secondo giorno il direttore ha pensato di approvare un regolamento il regolamento diceva che i soggetti privati non possono chiedere più adesso non ricordo ho 15 o 20 documenti al giorno complessivamente nell'arco dell'anno non possono chiedere più di 300 copie di documenti per singolo soggetto per ogni anno parliamo di milioni di documenti parliamo della saggia giustica ho chiesto anche invio ufficiale al direttore dell'archivio di stato perché mi impediva di estrarre le copie mi è stato risposto avvocato io che ne so se lei se le deve vendere ai giornalisti morale della favola sono passati sei anni i ministeri si sono fatti le loro scelte hanno depositato i documenti che hanno ritenuto di dover depositare e lì nutro dei grossi dubbi che lo abbia fatto in maniera integrale lo vedremo forse un giorno ma di fatto l'accesso a questi documenti è impedito a qualsiasi cittadino tranne che non sia contenuto in quel determinato numero di copie che è per una direttiva interna l'ex direttore adesso cambiato dell'archivio di stato ha deciso di imporre mi è sembrato la posizione di un segreto mi è sembrato impedire finalmente dopo tanti decenni passati inutilmente di poter accedere a informazioni nuove forse che potevano svelare nuovi profili di verità o nuovi profili di responsabilità mi è sembrato un modo molto burocratico per continuare a mantenere in piedi quel muro di gomma io per quanto mi riguarda a parte l'azzeccatissima definizione di muro di gomma in realtà nelle mie attività per me Ustica non è mai tanto stato il muro di gomma perché mi sono sempre messo nell'ordine di idee che se c'è quel muro di gomma e siccome so che è di gomma faccio prima a scavalcarlo piuttosto che a cercare di abbatterlo e lavorando con questi sistemi sostanzialmente mi sono accorto che in realtà il muro di gomma non è tanto un muro ma forse è di carta ma è piuttosto la definizione migliore sarebbe quella del gioco delle tre carte per Ustica sistematicamente ti fanno credere che in una direzione ci possa essere una soluzione che in un documento ci possa essere la verità di quello che dovremmo trovare e in realtà ti fanno solo perdere tempo questo aiuta tantissimo il sistema anche di come dire routine di macerazione degli archivi pensate a un archivio di qualche aeroporto militare chissà dove collocato che per prassi in maniera rutinare dopo un determinato periodo viene svuotato e le carte vengono mandate al macer e chissà lì dentro cosa c'erano ora il tempo aiuta anche in termini di decesso delle persone perché le persone muoiono lo Stato no le istituzioni no e nemmeno gli interessi io vi do ma giusto non per rubarvi ulteriore tempo vi dico che per esempio per me la questione del MIG libico trovato il 18 luglio del 1980 a Castelsilano per il quale si è ritenuto che fosse stato coinvolto venti giorni prima nell'incidente dell'aereo del 19 civile dell'Italia secondo me è assolutamente rilevante secondo me è semplicemente un gioco del tre carte attuato con grande destrezza e francamente a me non mi interessa sapere chi è l'aereo che fa sotto il 19 chi è l'aereo che era effettivamente l'oggetto dell'aggressione militare da parte di altri aerei chi è l'aereo che scappava a me mi interessa sapere chi ha sparato a me mi interessa sapere il nome del cacciatore chi fosse la lepre io capisco che i libici sono brutti sono cattivi i dafi però a me questo non è mai interessato otto anni di indagine sul mig libico su Castel Silano otto anni perché il giudice istruttore era stato fuorviato attraverso questo giochino molto ben organizzato perché il generale Tascio fece trovare nella sua agenda personale l'annotazione del mig libico nella pagina del 27 giugno mentre il mig libico ripeto era scaduto il 18 luglio generali che erano già stati sottoposti a sequestri a ispezioni documentali che sapevano benissimo che le proprie agende sarebbero state viste acquisite sequestrate e analizzate stranamente fece trovare l'annotazione della caduta del mig libico a Castel Silano avvenuta il 18 luglio del 1980 nella pagina scritta nella pagina del 27 giugno del 1980 è ovvio che il pubblico ministero ai tempi Rosario Priore intuì di dover indagare sulla coincidenza temporale è altresì ovvio che quello fu un depistaggio quella posizione fu fatta volutamente a mio modestissimo parere per carità non sono nessuno per dirlo ma è una mia sensazione è una mia assoluta convinzione e questo ha comportato l'allontanamento delle attenzioni di indagine sulla morte di 81 persone accaduta in un aereo civile della compagnia Italia la distrazione di quell'attenzione nei confronti di quello che era accaduto in Calabria la sera del 18 luglio 20 giorni dopo attraverso anche relazioni medico-legali farlocche attraverso anche testimonianze di politici locali farlocche tutto sapete come si è risolto durante il processo dopo tanti anni quando poi alla fine abbiamo sentito l'unico test che poteva avere un minimo di affidabilità era la pastorella che aveva visto il MIG planare a motore spento e che gli era passato sopra la testa la pastorella che quando noi ahimè l'abbiamo sentita in udienza insomma non aveva fatto studi abbiamo dovuto chiedere l'intervento di un di un interprete e io sono siciliano quindi il calabrese insomma lo capisco era veramente difficile sentirla era l'unica persona pura che poteva dire questa cosa lo ha descritto lo ha ricordato e alla semplice domanda ma di che colore era ha risposto semplicemente verde giallo l'idea l'idea del del miti libico caduto il 18 luglio piuttosto che il 27 giugno è basata sul teorema che in teoria il MIG è caduto il 27 giugno e nessuno se ne è accorto nessuno l'ha visto perché di sera e di notte poi alle 9 di sera a luglio non fa buio comunque il paese non ha sentito non ha visto le fiamme non ha visto niente poi il 18 luglio un Phantom americano che è un aereo completamente diverso dal MIG fa un'azione di lo crea apposta scende a bassa quota durante lungo quel canalone e lancia una bomba incendiaria sulla carcassa del MIG caduto qualche qualche giorno prima e a quel punto si dà l'allarme quindi si trattava di capire se questo aereo visto dalla pastorella fosse il Phantom che butta la bomba incendiaria dopo 20 giorni piuttosto che il MIG bastava chiedere il colore e il colore era giallo-verde e non argentato come i Phantom e quindi lì si chiuse la questione sul MIG tra l'altro vi dico che io ho visto pure il tracciato radar di quel MIG che il 18 luglio si alza sopra Tripoli e poi arriva all'altezza di Malta e poi va planando verso la bassa Calabria o il tracciato radar quindi ho verificato anche da questo punto di vista è purtroppo un pilota che probabilmente ha avuto un infarto insomma ha messo il pilota di tutto automatico e poi è sceso giù perché ha finito l'autonomia in merito all'autonomia vi dico anche che l'idea che un MIG libico possa scendere dal Triveneto per capirci fino alla Libia senza serbatoi supplementari è pura fantascienza quindi che ci fosse un MIG libico che tra l'altro avesse messo in conto di fare pure una battaglia aerea con quella poca autonomia di carburante che le poteva rimanere è altra fantascienza io temo temo che non ci fossero i libici temo tanto che quello fu un gioco di di guerra prettamente nato temo tanto che i libici siano stati messi tanto perché un cattivo ci voleva per forza temo che sia stato un tragico errore non voglio pensare che sia stato una cosa voluta un atto voluto non voglio credere mi ostino a non credere che deliberatamente siano voluti uccidere 81 civili credo che sia un missile che è stato lanciato in maniera un po' maldestra durante un'esercitazione probabilmente scambiando un aereo civile che essendo partito con due ore di ritardo lì non doveva essere in quella esercitazione francese credo voglio sperare che sia stato un tragico error e basta non voglio costruire altro anche perché francamente nei Rada non si vede altro se non degli aerei che scendono giù da Solenzara degli aerei che vengono giù dalla Corsica e che poi scendono sotto quota o atterrano su una porta aerei non c'è bisogno del libico cattivo per dare uno spessore di drammacità in più a questa storia bastano gli 81 morti e soprattutto non ho bisogno di sapere il nome il cognome di un di un'altra possibile vittima di una lepre piuttosto che di io voglio sapere il cacciatore so che il cacciatore viene da nord e basterebbe dare seguito a quella rogatoria che noi abbiamo fatto in Parlamento europeo per finalmente dare una risposta basterebbe un attimo aprire qualche archivietto segreto magari della Francia o anche della Libia perché gli archivi segreti della Libia sono in possesso della Francia e quindi questo è facile bisogna avere il potere perfetto io ti ringrazio è stato per quanto possibile bello riuscire a parlare informativo e tutto quello che possiamo dire ti ringrazio tantissimo voi sappiate che io vi ho detto la verità perfetto sappiate era quello che cercavamo ti ringrazio grazie ancora grazie per la pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti